C'è una frase di Pavese che abbiamo esposto al Collegio della Guastalle che dice l'unica gioia al mondo è cominciare, è bello vivere perché vivere è cominciare sempre ad ogni istante. E' questo quello che noi chiediamo ai ragazzi che diventano grandi, di avanzare di scoperta in scoperta negli anni del liceo per entrare nella realtà personalmente. Al liceo scientifico questo si fonda su un paragone tra la cultura classica e l'avventura conoscitiva della scienza moderna. Nel campo scientifico si educa alla capacità di osservare il fenomeno, alla disposizione a formulare domande e al rigore nel metodo, al gusto della scoperta, all'apertura al significato. Il liceo scientifico del Collegio della Guastalle tende ad una chiarezza e a una unità con una certezza. Non possiamo sopportare di vivere in un universo che non conosciamo. Al liceo proponiamo un'ora settimanale di laboratorio integrato tra le tre materie scientifiche. Questo per abituare gli studenti ad un approccio sperimentale e successivamente per esercitare la padronanza del metodo scientifico, sviluppando la capacità di argomentazione. Il laboratorio incentiva la realizzazione delle esperienze in autonomia, sotto la guida dei docenti che li conducono a strutturare un processo conoscitivo efficace. Proponiamo poi un laboratorio teatrale, un'ora alla settimana, che è parte integrante della programmazione di italiano ed è volto ad approfondire il rapporto tra gli studenti e la parola. Così, compresa ed interpretata, la parola fiorisce e prende vita, attuando una comunicazione vera. La lingua inglese è un'attività creativa, nutre il pensiero, apre il confronto ad una realtà diversa, la ordina, la perfeziona, le dà un significato, e sempre portatrice di cultura. L'insegnamento si avvale di un potenziamento di tre ore nel curriculum e dell'ausilio di un insegnante di madrelingua dal primo al quarto anno, anche in preparazione delle certificazioni FIRST e ADVANCED. Negli anni del liceo proponiamo un'esperienza di 15 giorni di stage a Londra, in cui tutti gli studenti sono impegnati in scuole, biblioteche o nei grandi musei. Ogni studente è un individuo a sé. Seguiamo da vicino le singolarità, valorizziamo le capacità, sosteniamo le fragilità. Cerchiamo di preparare un percorso per ogni studente che sia unico, come lui. Il liceo al Collegio della Guastalla si pone l'obiettivo di allargare l'orizzonte della ragione attraverso il metodo dell'esperienza, vale a dire con la scoperta personale della realtà e del suo senso. La proposta educativa del liceo al Collegio della Guastalla per noi risponde a questa domanda. In che cosa questa mia ora di lezione ha contribuito a illuminare l'esperienza mia e dell'altro? Una didattica che miri ad educare la ragione, l'affezione e la libertà degli studenti. Tutto deve servire a educare l'umanità di ogni studente e a stimolare la profondità di ciascuno per cercare e tentare di scoprire la segreta armonia di tutte le cose.